Professor Sareola, chi era Nicola D'Amelio? Per me era e rimane una persona solare, tranquilla, sempre con il sorriso sulle labbra e quindi che faceva divenire le cose difficili facili. E quindi è un buon ricordo, è stato un peccato, una grossa perdita per il movimento sportivo irpino al quale si era legato svolgendo diverse attività e diverse discipline sportive. Dal card e ad altre attività promozionali. Quindi è anche un po' difficile ricordare perché a me questi memorial non è che piacciono tanto però credo che sia necessario anche capire le persone che hanno contribuito allo sviluppo dello sport e rispettarle e prendere il loro esempio per andare avanti. Appunto, come ha contribuito allo sviluppo dello sport qui in Irpi? Beh, lui ha contribuito dando un grosso impulso alle attività promozionali ha tentato anche di creare delle situazioni nella provincia, nei paesi in prossimità di Avellino e di Atripalda e quindi credo che questo sia un ottimo esempio. Ripeto, la sua forte personalità ci ha impressionato per il passato perché con molta tranquillità avevo rapporti un po' con tutti.